Questo video, che prima non era uscito bene, diciamo che antiguarda sempre questo libro per iniziare a parlare di vlog motori, dei miei vlog motori, diciamo, su youtube il mio canale, non mi stacca, inizio a parlare dell'automobile, diciamo, prendo tutto dal libro Romano Perini, Vito Cataldi, Dei Macchiani e Franco Marchese, il nuovo editor come dialogo, sono i nuovi programmi, tra l'autorismo, simbolismo e vanguardia, il mio editor nel 2025, Lomboli di Torre, Firenze 2012, stiamo a pagina 1099, si tratta per cosa di sapere la macchina di sezioni, all'inizio parla dell'automobile che sarebbe padrona, però comunque ci interessa più di parlare, diciamo, delle centrali dell'automobile, ebbene, non è fuori tema, leggendo prima la traduzione, l'automobile che sarebbe padrona, dove si dice che la diffusione dei modelli economici di auto rivoluzionò in presto da più di anni e peggiorò la viabilità dell'autorità, cambia anche la simbologia dell'automobile, la quale mantenendo la simbrografia e l'ubicità, il fashion, l'avventura, il gioco e la seduzione, si massifica e si deve diventare parte elegante del nostro ruidiano e del nostro vissuto, si mette a diviso l'uomo che forsemente ne rimane schiavo. E poi, nel testo 8, nel testo di automobili, dove si dice che i primi esemplari di testo non continuo, gli esemplari di automobili risalgono dal 1890 al 1900, e nel 1897 si scrive di Marcus mise a punta in Germania con il motore a scoppio a 4 tempi, che quagliano in più tardi sarà proiezionato da un autoresco Daimler, che lo installerà in una vettura a cui è stato costruita. L'industria dell'uomo sarà una principale protagonista del panorama economico del nuovo secolo, già arriva nel 1900. Dalle vicine Konstat iniziaranno a produrre vetture con motori Daimler, la cosa da Daimler prenderà poi il nome di Mercedes e in presto che circolano a estrarre le proie vetture prodotte da Renault, Peugeot e da una piccola sede da una Fiat Torino. La tabella che viene orientata elenca i modelli di auto che per il maggior successo è l'acqua di 100 anni, 1885 e 1885. Quindi dice così la tabella inizia a dire. Veniamo a Mosi di 100 anni, 1885 e 1885. 1885 Mercedes Velociped, 1880 cilindrata. 1894 Panhard B2, 182 cilindrata. 1899 Fiat 3.5 HP, 189 cilindrata. 1909 Renault A, 38 cilindrata. 1901 Osmobile, Curved, 185 cilindrata. 1901 Daimler, Mercedes 35, 5900 cilindrata. Poi 1903 D'Amboutin, la Opul Air, 242 cilindrata. 1906 Ross Royce, Silver, 713 cilindrata. 1908 Ford T, 2280 cilindrata. 1909 E, 8 Veskini, 8 cilindrata. 1901 cilindrata. 1922 Lancia, Lambda, 214 cilindrata. 1929 Formel 6C, 72 cilindrata. 1912 Fiat Ballilla, 25 cilindrata. 1928 Citroen 7A, 21 cilindrata. 1906 Fiat Topolino, 59 cilindrata. 1913 Lancia, Aprilia, 350 cilindrata. 1939 Kailac, 90 cilindrata. 1929 Willis Jeep, 29 cilindrata. 1908 Vagia Maggino, prima serie, 1932 cilindrata. 1908 Citroen, 2 cavalli, prima serie, 35 cilindrata. 1908 Burick Roadmaster, 5300 cilindrata. 1902 Fiat, 180 DS, 367 cilindrata. 1924 Alfa Romeo, Giulietta, 1290 cilindrata. 1995 Fiat, 600, prima serie, 33 cilindrata. 1906 Citroen DS, 1911 cilindrata. 1959 Austin Morris, 1.000 prima serie, 38 cilindrata. 2060 Lancia, Flavia, prima serie, 1.500 cilindrata. 1901 Rennoco, 4, prima serie, 76 cilindrata. 1902 Alfa Romeo, Giulia, 59 cilindrata. 1908 Lancia, Fulvia, 1588 cilindrata. 1901 Fiat Vetta, prima serie, 93 cilindrata. 1901 Alfa Romeo, 1.196 cilindrata. 1902 Lancia, Beta, 1.500 cilindrata. E, 這個, 175 cilindrata. 1903, BMW, 202'll, 1909 cilindrata. 1904, 19 defensore, 1932, 1928 cilindrata. 1905 Fortesco, 30 serie, 19100 Fiori, 1931 sopra, 1932 cilindrata. 1906 Ferrari, 502 cilindrata. 1903 Carnaff, Gioswa etnia e da base a cima 55 cilindrata Vagri Golf per una serie 1200 cilindrata Fiat Ritmo per una serie 39 si 99 lancia la volta 99 Fiat Panda per una serie 12 cilindrata 51 Met Tabby Turbo da 26 cent groß Audi 100 qualitative 71 cilindrata Fiat 1 tasto 93 cilindrata Respirazione 33 Geo modo per ora con questo video ho finito per l'arriva parte 3 ho parlato diciamo dell'automobile, l'introduzione dell'automobile anticamente alcuni motori e per ora ho finito il video e oltre a questo video vi seguiranno altri che riguarderanno i blog motori sulle automobili sempre per esempio il libro che ho detto all'inizio del video e per ora finisco con questo video e vi auguro buona giornata ci vediamo al prossimo video quanto riguarda questa nuova parte del mio canale che si chiama blog motori a presto